Il quinto pianeta è il più piccolo di tutti, è grande quanto basta per ospitare un lampione e il suo lampionaio. Evidentemente si tratta di una personalità piccola, su scala ridotta, sin dall'inizio al piccolo principe la cosa non appare perfettamente chiara. Il piccolo principe non riusciva a spiegarsi a chi potesse servire sperso nel cielo su di un pianeta senza case, senza abitanti, un lampione e il lampionaio. Non è antipatico in realtà questo personaggio, il nostro lampionaio. Dopotutto si dedica con impegno a qualcosa. Il piccolo principe tira un sospiro di rammarico e dice questo è il solo di cui avrei potuto farmi un amico, ma il suo pianeta è veramente troppo piccolo, non c'è posto per due. Come lo schiavo di una galera alla sua panca? Il lampionaio è incatenato alla sua consegna. Non ha spazio nel tempo per un rapporto a due. A me pare che simboleggi la nevrosi ossessiva in noi. Quale piccolo mondo carino avrebbe se solo sapesse goderselo? 1440 tramonti e 1440 albe in un solo giorno. Ma chi ha dato la consegna al lampionaio? Chi non l'ha corretta dopo che era diventata insensata? Egli non lo sa più, se l'è dimenticato. Tuttavia egli continua ad eseguirla alla lettera, senza pensare. Il lavoro è lavoro, pensa sicuramente il nostro uomo. Vivo per lavorare, il dovere è dovere. Egli non osa neppure chiedersi quale significato abbia il suo lavoro e la sua esistenza. È incorreggibile, incapace di cambiare. Il suo io si realizza nell'obbedire ottusamente ad una consegna divenuta anacronistica che non verrà più senso. Perverte fedeltà e dovere, come sotto una costrizione ipnotica, persegue un obiettivo da tempo insensato. Non vive, viene vissuto. È vittima della sua nevrosi, della deformazione delle sue percezioni e azioni. Pone al servizio di una causa sbagliata la sua grande capacità di impegnarsi e la sua ammirevole affidabilità. Nella freneticità del suo insensato lavoro, egli perde il sole e la poesia del suo pianeta. Questo monotono faticare e lamentarsi, e questa è forse la cosa peggiore, fa inoltre sì che il pianeta dell'anima del lampionaio si raggrinzisca. Non c'è più posto per due. Egli resta solo nel circolo vizioso della sua insensata operosità. L'unica cosa che ama nella vita, confessa, è il sonno, cioè il suo torpore. Tutto pur di non muoversi, di non uscire dalla palude psicodinamica della vecchia vita imputridita e di non osare il nuovo. Qualsiasi cosa ha patto di non abbandonare l'ingannevole sicurezza e tentare una nuova nascita attraverso le angosce della transizione. La situazione del lampionaio non ha via d'uscita perché egli non fa niente, non mette in dubbio la sua vita sbagliata, non si dà una mossa. Questo nevrotico mi ricorda una storiella. C'è un uomo su un accelerato che ad ogni stazione si sporge dal finestrino, legge il nome della località ed emette un gemito. Dopo 4 o 5 stazioni la persona seduta di fronte a lui gli chiede preoccupata qualcosa che non va, si sente male. L'uomo risponde sto viaggiando nella direzione sbagliata. E perché non scende allora? Ma qui c'è un così bel calduccio. Si potrebbe immaginare che il lampionaio nevrotico abbia ricevuto la consegna dal padre o dall'autorità. Gli ideali che ci vengono inculcati dai genitori, dagli educatori dai sacerdoti, possono rivelarsi delle consegne nevrotiche. Per esempio il precetto non mentire è giusto ma non deve essere elevato a rigida formula assoluta. Nella vita adulta esistono situazioni in cui è necessario ricorrere a una bugia pietosa in cui dobbiamo diplomaticamente mentire. Non devi mai abbandonare il tuo partner. È giusto questo? Non hanno forse diritto le donne e gli uomini dopo una matura riflessione e un lungo travaglio di decidere per un nuovo inizio ponendo la fedeltà a se stessi al di sopra della fedeltà a un rapporto di coppia ormai distrutto? Devi essere fedele al tuo datore di lavoro. Questo vale anche quando siamo sfruttati. Le consegne assolute o anacronistiche hanno il potere di terrorizzarci. Niente può inibirci nella vita più delle consegne ormai insensate o degli ideali distrutti del passato. Si rovesciano addosso opinioni, ideologie, rozza semplificazioni e fanatismo in materia di mangiare, di bere, abitare, morale, buone maniere, sessualità, rapporti e lavoro. Poi soffriamo perché noi non compariamo in questi messaggi provenienti dall'esterno. Spesso ci siamo adeguati fino a non riconoscerci più. Abbiamo tradito le nostre aspirazioni, rimossi i nostri desideri. Nella cosiddetta analisi transazionale che esamina il copione della vita futura ricevuta nell'infanzia, le consegne interiorizzate da bambini e da adolescenti sono chiamate messaggi condizionanti. È come per l'uomo sul treno. Egli sa di avere sbagliato direzione. Sa che così non potrà mai raggiungere la sua destinazione. Minuto dopo minuto si allontana, per così dire, da se stesso. Ma il treno è caldo e accogliente. Scendere dal treno di vita sbagliato e rimettersi in cammino in una nuova direzione costa fatica e richiede forza di volontà. Per questo ci ritiriamo. Come dice una vecchia battuta, sempre in voga tra gli psicoterapeuti, il neurotico preferisce l'infelicità conosciuta alla felicità sconosciuta. I messaggi condizionanti dell'infanzia ricoprono la nostra vita di fredda brina, congelando spesso la nostra crescita. Tutti siamo in qualche misura lampionai nevrotici. Non ce la farai mai. Non farlo, sei troppo stupido. I maschi non piangono. Devi essere perfetto. Questo tipo di messaggi da un lato ci spingono a prestazioni incredibili, ma dall'altro ci fanno finire in vicoli ciechi. Il copione della vita nevrotica ci fa disimparare la capacità di amare noi stessi e di ascoltare la nostra voce interiore. È in questo senso specifico che Nietzsche, in La volontà di potenza, scrive che si deve distruggere la morale per liberare la vita. Tutti coloro che vogliono crescere farebbero bene a decifrare i propri messaggi condizionanti. Dietro le inibizioni della nostra vita sono nascoste le immagini che abbiamo di noi stessi e le paure dalle quali siamo vincolati e indotti a reprimere parti di noi stessi. Se saremo capaci di uscire dalla routine quotidiana dello snervante accendere e spegnere la lanterna, potremmo riconquistare tutto ciò che in noi è stato rinnegato. Libertà, curiosità, coraggio, sessualità, amore del rischio. Noi possiamo cambiare, solo i lampionai si fermano. È assurdo restare psichicamente immobili a un corpo che a livello cellulare si modifica ininterrottamente. Come criceti giriamo nella ruota delle consegne provenienti dall'esterno, perdendoci come lampionaio, i 1440 meravigliosi tramonti e le 1440 promettenti albe. A me viene in mente ironicamente il piccolo lampionaio che ogni tanto entra nel mio canale e mette una sfilza di non mi piace, ovviamente senza guardare il video, no? Perché ne mette dieci in un secondo. Quindi non ha tempo di guardare quello che lo fa per un condizionamento, per un principio, perché gli sono antipatico, evidentemente. E allora questa coazione, a compiere un gesto insignificante, perché non vuol dire niente, il suo non mi piace. Cosa vuol dire? Che non gli piace una cosa che non ha visto, non ha guardato. Oppure se guarda queste cose e continua a guardarle nonostante che non gli piacciono, vuol dire che è proprio un piccolo lampionaio, che il suo mondo è proprio piccolo. A cosa serve questo gesto? Ecco, un condizionamento. Insomma, uno vuole dimostrare la sua presenza, vuole far capire che gli sei antipatico e nello stesso tempo vuol dirlo. È una coazione a compiere un gesto insulso, insignificante. Insomma, nevrosi, ce ne sono di tanti tipi, ne abbiamo tutti nel nostro mondo, anche qui.